Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Xbox and Games. Attraverso i nostri tutorial potrete ottenere il cento per cento della sincronizzazione totale. Bene, inseriamo il nostro nome, prendiamo ok e subito inizierà il filmato di introduzione. Godiamocelo e a dopo. Un tempo la gente che preannunciava la fine del mondo veniva rinchiusa, oppure derisa. O tutte e due le cose. Non li prendevamo sul serio. Forse avremmo dovuto. Ma ora sto correndo troppo. Meglio cominciare dall'inizio, dal rapimento di Desmond Miles, mio figlio. Lui non aveva ambizione né scopo, niente piani per il futuro. Ma aveva un retaggio pesante e voleva ignorarlo. Per questo ha rischiato la vita. È stato preso e imprigionato. I rapitori volevano che lui li aiutasse a ritrovare una cosa. La mela. Uno dei tanti manufatti chiamati frutti dell'Eden. Resti di un'antica tecnologia ora sparsi per il globo. Alcuni nascosti, altri no. Ma tutti pericolosi. Erano quasi tutti nelle mani di un gruppo. La stessa gente che era Pete Desmond. Sono noti come Abstergo Industries. Per noi sono i Templari. Il nemico. Li combattiamo da migliaia di anni. Anche di più per chi crede alla storia della loro origine. Come me. Dopotutto conosco la verità. È questa la bellezza e l'orrore dell'Animus. Una macchina che ci permette di rivivere la vita dei nostri antenati. Che ha il potere di cambiare tutto. Di mostrarci la storia come è andata davvero. Fino alla sua creazione. A scrivere la storia erano i vincitori. Vogliamo rimediare e liberare le menti e i corpi. Ma non possiamo fare più di tanto. Sono i Templari a essere in vantaggio ora. Ma a qualcosa di più grande gli assassini e Templari si avvicina. È più grande di tutti noi. E se non troviamo il modo di fermarlo, queste saranno le ultime settimane di vita. Per tutta l'umanità. Alla fine tutto si riduce a lui. A Desmond. Nell'Animus ha scoperto le sue origini. Ha vissuto la vita dei suoi antenati e svelato i loro segreti. Fatto questo si è allenato. Ha usato un altro antenato per acquisire decenni di esperienza in pochi giorni. Ha funzionato, crediamo. E speriamo. Presto però lo scopriremo. La data in fausta si avvicina. 21 dicembre 2012. Nessuno di noi sa cosa accadrà se non che loro volevano che ci trovassimo esattamente qui. Ci hanno guidato nel loro modo oscuro e frustrato. Con le voci della prima civilizzazione. Di coloro che vennero prima. Una razza antica dal sommo potere e dalle strane ambizioni. Loro hanno creato i frutti dell'Eden. Lo hanno condotto fin qui. E con lui anche noi. È all'ingresso di questo luogo dimenticato. Armato del sapere di Altair e delle abilità di Ezio. Ha fra le mani la mela dell'Eden. E noi siamo al suo fianco, pronti ad aiutarlo se ne avesse bisogno. Si chiama Desmond Miles e ci ha guidati fino alla fine. Ci siamo. Perfetto. Siamo ritornati nel gioco. Ci stiamo dirigendo verso la caverna dove verrà ambientata la storia ai giorni nostri. Eccola lì. E subito dopo Alice si gettò dietro di lui. Senza nemmeno domandarsi come avrebbe potuto che uscire. Ok entriamo nella caverna. Andiamo sempre dritto. Perfetto. Adesso continuiamo a camminare. Mi sa che ci siamo. Scendiamo. Andiamo fino alla parete che ci troviamo di fronte. A presto. 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 siamo. Desmond. Puoi sentirci? Sì, cosa è successo? Il tempio ha scatenato l'effetto osmosi, sei crollato e hai perso conoscenza. E ovviamente mi avete messo nell'animus invece di, che so io, vedere se stavo bene. Non sei in pericolo. E poi il tempio sembrava comunicare con te. E non voglio rischiare di interrompere la connessione, almeno finché non scopriamo cosa vuole. Già, ma certo. Senti, io... No, va bene, capisco. E so anche cosa devo cercare in realtà. Una chiave. Solo che non so dove si trovi. Forse per questo lei ha scatenato l'effetto osmosi. Lei. Giunone, papà. È lei che mi parla. Ok, Desmond. Mentre eri in gita a Costantinopoli, abbiamo caricato un aggiornamento per l'animus. Vorrei fare un paio di test per essere sicura che non ci siano problemi. Va bene. Cosa vuoi che faccia? Iniziamo dalle basi. Raggiungi il segnale. Beh, questo percorso è un percorso base. Per chi non avesse mai giocato a Assassin's Creed serve appunto per capire come ci si muove all'interno del gioco. Quali pulsanti premere per effettuare determinate azioni. Tutto molto, molto, molto semplice. Seguite sempre il pallino verde. Ora una forza acrobatica lungo quel percorso. Una cosa importante. Ci sono degli obiettivi aggiuntivi che migliorano la sincronizzazione. Bene, Desmond. Segui le istruzioni a schermo e un giro di queste età. Qui è facile. Devi soltanto saltare. Per effettuare questi salti basta premere A e via. Abbiamo finito la prima sequenza. Il livello di sincronizzazione è buono. Dovremmo poter ricreare l'ambiente. È ora di scoprire cosa vuole il tempio da te. Sincronizzazione 100% missione completata. Sincronizzazione 100% Grazie a tutti.